La cometa dei Neanderthal si sta avvicinando sempre di più alla Terra. L'ultima volta è successo circa 50.000 anni fa e nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio raggiungerà la distanza minima dal pianeta, solo 42 milioni di chilometri. Purtroppo, a differenza delle prime ipotesi, osservarla ad occhio nudo sarà più difficile del previsto e quindi consigliato l'utilizzo di un binocolo o di un telescopio, soprattutto nelle zone caratterizzate da inquinamento luminoso. La migliore condizione per osservarla è quella in cui si trova adesso, ovvero nei pressi della Stella Polare e dove rimarrà fino a domenica 5 febbraio. Segui Upday per altre notizie.